Il trevo regionale 1691 di Trenitalia, delle ore 17.49 di Trenitalia, delle ore 17.46, proveniente da 1, è in arrivo al binario 2. Buonasera, benvenuti a Bordeaux dell' istituzione, Faticcia Roża 94.51, il treno fermerà a Venezia in Estre, Padova, Bologna Centrale, Firenze, Santa Maria Novella, Roma, Tiburtina. e arriverà a Piova Termini, alle ore 22 e 10, Frenitalia vi augura buon viaggio. Gentili clienti, vi invitiamo ad abbassare la suoneria dei cellulari e del tono della voce a fine di non disturbare gli altri viaggiatori. Grazie per la collaborazione e buon viaggio. Venezia, Mestre, Padova, Bologna, Centrale, Firenze, Santa Maria, Novella, Roma, Tivortina. And we'll arrive in Roma Termini, but 22 e 10, Frenitalia wishes you a pleasant journey. Dear customers, please lower the volume of mobile phones and the tone of voice as not to disturb other passengers. Frenitalia wishes you a pleasant journey. Grazie per la vision. Grazie per la vision. Grazie per la visione. Grazie a tutti Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.